buongiorno a tutti e benvenuti all'ottava e ultima puntata digitalks io sono marco burattino e faccio parte di guideware si avete capito bene oggi è l'ultima puntata di questo percorso che durato e ci ha tenuto compagnia per tutto il 2022 e il viaggio rappresenta la metafora ideale per consentirci di ripigolare quello che abbiamo fatto e anche di ringraziare le persone che sono intervenute come ospiti il viaggio ha tre connotati fondamentali che tre immagini che ne riassumono quelle che sono le caratteristiche fondamentali la prima è la bussola la bussola è l'indicazione della destinazione dopodiché c'è lo zaino quello che ci portiamo in viaggio i nostri strumenti che ci serviranno nel percorso infine c'è il mezzo di trasporto ovvero lo strumento attraverso cui arriviamo e tendiamo verso il nostro nord il percorso digitalk è cominciato parlando della bussola la bussola è quale può essere se non il purpose il purpose è il motivo per il quale un'azienda esiste la risposta a cui diciamo la risposta che l'impresa vuole dare a un problema particolare abbiamo coinvolto Andrea Severino di Elti Virtuoso come esempio di azienda in cui è estremamente riconoscibile e facile associare un purpose e poi abbiamo approfondito lo stesso concetto insieme a Vittorio Giusti sulle assicurazioni andando a parlare nello specifico appunto delle tematiche strategiche e anche organizzative fino anche individuali associate appunto al purpose e perché è importante abbiamo poi affrontato con Marco Contini il tema delle concentrazioni in corso a livello assicurativo sia prima nel mondo industriale poi nel mondo distributivo e parlando poi di quanto queste concentrazioni servono ad aumentare la rilevanza delle imprese di assicurazione all'interno del mercato arriviamo quindi allo zaino e quale strumento più importante dell'IoT per andare effettivamente a far sì che le compagnie di assicurazione possano un domani incrementare la loro rilevanza all'interno dei bisogni del cliente infine il mezzo di trasporto il mezzo di trasporto abbiamo cominciato parlando di come le banche steano allargando il loro campo da gioco insieme a Gianluca Zanini per creare nuove linee di ricavo a fronte di un mercato che in questo momento è difficile per loro poi abbiamo coinvolto Mario Carnevale per parlare di una delle tendenze che potrebbe rappresentare un allargamento del campo da gioco per le assicurazioni il metaverso come opportunità di business da accogliere per il futuro e in generale forse riguarda l'innovazione come veicolo ideale per andare a sfruttare in positivo le opportunità che il futuro ci può offrire Cosa ci aspetta allora nel nuovo anno? Fortuna ha voluto che pochi giorni fa uscisse la versione 2023 dei live trend di Accenture uno studio che abbiamo utilizzato anche all'inizio di Gtalk per parlare di quelli appunto che erano lo scorso anno i trend che venivano visti dominanti sul sulle nostre vite sul mercato in generale Accenture individua cinque trend a noi ne interessano in particolar modo tre di cui passiamo a parlare I will survive non è la canzone di Gloria Gaynor ma parla di un mondo che ormai è in crisi permanente in cui la fiducia è un valore che è sempre più raro e c'è sotto attacco un mondo nel quale l'evoluzione rispetto al passato sembra diciamo un'evoluzione peggiorativa ci eravamo lasciati nel 2022 parlando della great resignation Accenture conia due termini per quest'anno che sono correlati trasforma la great resignation in great cancellation ovvero un fenomeno tramite cui le persone cominciano man mano a disinteressarsi e a fare il conto per esempio di quelle che sono le subscription ai servizi a cui sono iscritti in un'ottica diciamo conservativa e di maggiore solitudine che fa da contraltare a un concetto cosiddetto di quite quitting l'anno scorso parlavamo di persone che per un valore positivo ovvero dare senso al proprio lavoro lasciavano il lavoro attuale puntavano ad altro quest'anno parliamo di persone che forse troppo stanche per le richieste di resilienza di questi continui problemi che dobbiamo affrontare probabilmente desiderano soltanto rilassarsi un po e staccare un pochino la spina per fortuna i trend che abbiamo che abbiamo descritto ha un suo contraltare un suo contraltare che è definito nel modo I'm a believer perché sì il web 3 rappresenta da questo punto di vista una speranza importante I'm a believer vuol dire che stiamo cercando un rapporto nuovo con le aziende che ci vendono prodotti o servizi vuol dire che quello che Kevin Kelly ipotizzava più di dieci anni fa nella teoria dei mille veri fan sta diventando mano a mano un po più reale oggi i clienti noi parliamo sempre di più della necessità di costruire una community di clienti piuttosto che servire i clienti nel modo cui siamo sempre abituati a fare infine il terzo trend che ci interessa è ok creativity la parola chiave qui è il ruolo da copilota che l'intelligenza artificiale comincia ad avere nel confronto di qualsiasi lavoro creativo è sotto gli occhi di tutto e soprattutto nelle ultime settimane quanto l'intelligenza artificiale stia cominciando ad essere sempre più credibile e quindi stia cominciando ad attuare in molte molte professioni quello quello che era il nostro nella nostra paura in cui dicevamo riuscirò a conservare il mio lavoro un domani il mio lavoro verrà fatto da una macchina e quindi tutto questo che senso ha per l'industria assicurativa si sa che dovessimo rappresentare le assicurazioni come fossero una mela vedremmo due metà una metà associata al mondo distributivo e una metà associata alla componente industriale allora proviamo a dare per ciascuna di queste due metà delle idee dei spunti di riflessione che secondo noi sono evocati da quello che abbiamo detto finora e dal percorso che abbiamo fatto quest'anno con gtalk partiamo da un articolo di atlantic che è comparso sul numero di questa settimana di internazionale in cui si manifesta la minaccia della fine dei social network ma andando a leggerlo c'è una cosa interessante ovvero la transizione qui stiamo assistendo e probabilmente abbiamo assistito nel passaggio che c'è da social network a social media social network inteso come facebook come un luogo che è deputato principalmente a ragionare sul contatto fino al social media rappresentato da per esempio tik tok in cui è principale il connotato di contenuto rispetto al contatto di cui parlavamo prima e questa secondo noi è una chiave di lettura estremamente importante del tempo che viviamo vedete che siamo anche a livello assicurativo in un contesto nel quale probabilmente tuttora è ancora privilegiato il contatto più che il contenuto se vado a guardare sul mio profilo di linkedin io vedo che tra me e bill gates ci sono tre gradi di separazione ora non ci passerò natale insieme però il livello di probabilità che qualcosa che io dica o che scrivo riesca ad arrivare sulla scrivania di qualsiasi persona sulla faccia della terra è molto più alto rispetto a vent'anni fa quindi diciamo la capacità di contatto è aumentata moltissimo diversamente il contenuto oggi la fa fa la reale differenza tra le cose abbiamo usato l'esempio di giallo zafferano a me piace la cucina quindi ogni tanto mi trovo a guardare su internet delle ricette ora non sto dicendo che i contenuti di giallo zafferano sono i migliori sto dicendo una cosa un po' più un po' diversa giallo zafferano rappresenta un livello medio medio alto di affidabilità per l'esecuzione di una ricetta quindi se mi trovo il link nei risultati di google di giallo zafferano so che bene o male quella ricetta che mi incuriosisce la riesco a fare in maniera diciamo normale con un livello di qualità decente quindi la quantità e l'affidabilità di giallo zafferano danno un esempio di come il contenuto la quantità la frequenza il formato tante caratteristiche del contenuto siano importanti arriviamo alle assicurazioni e guardiamo in ottica di distribuzione quello che è uno dei fenomeni più evidenti più più facili da comprendere che siano gli agenti assicurativi nuovi panda questa non è un articolo che titolava così che ho letto in questi giorni negli ultimi dieci anni sono il numero di agenti assicurativi parliamo della categoria a del registro unico degli intermediari assicurativi si è ridotto il 30 per cento e la quota di mercato degli agenti assicurativi non è che sia messa molto meglio c'è una perdita del 10 per cento di quota di mercato su rame danni negli ultimi dieci anni da controaltare vediamo che questo ragazzo che io non conoscevo colpevolmente mister beast recentemente che è una un influencer su youtube una persona che su youtube fa milioni e milioni di visualizzazioni recentemente ha per aumentare la propria capacità di produzione di contenuti di qualità sempre maggiore si dichiara disposto a cedere il 10 per cento dell'azienda se stesso cioè del dei suoi del suo valore materialmente pari a 150 milioni di dollari per avere nuovo capitale per incrementare la qualità dei suoi video quindi stiamo parlando di un essere umano che si quota in borsa praticamente con un valore astronomico da da unicorno perché facciamo questo raffronto perché questa secondo noi è una chiave di lettura per interpretare il futuro del mondo della distribuzione una chiave di lettura che parte dalla necessità di affermare il proprio personal brand in qualsiasi attività umana di oggi questo è fondamentale cercando di stringere un po il campo sulle assicurazioni mi ricordo l'esempio di qualche anno fa un concetto che mi interessava molto mi piaceva che era quello del friendsurance ovvero qualcuno che raccoglieva delle persone con dei bisogni assicurativi similari ai propri magari tra la propria cerchia di amici appunto e andava a negoziare a modi broker con una compagnia assicurativa un trattamento assicurativo che fosse conveniente per tutti noi una modalità di pool in una delle puntate precedenti di gtalk abbiamo fatto un esempio di second life noi dicevamo che second life non era stato un fallimento era stato era andato a morire non perché l'idea non era buona ma era andato a morire perché era arrivato troppo presto che sia stato anche il caso di friendsurance che da noi non ha mai attecchito e che comunque oggi non è un fenomeno che si riproponga anche un domani infine probabilmente quello che stiamo dicendo è un modello che deve passare da premiare il contatto la provvigione è nata in funzione della capacità di avere contatto verso premiare il contenuto ovvero un concetto più vicino a quello della royalty perché alla nuova forza distributiva verrà chiesto probabilmente di generare business e di applicare quelli che sono gli insegnamenti che riceviamo dal mondo degli influencer questo fenomeno in espansione continua verso la pratica e la disciplina assicurativa e dopo aver parlato del tema di un'idea a livello distributivo passiamo ad affrontare un tema invece più con un'ottica industriale e partiamo da tik tok abbiamo già citato ma è un esempio importante tik tok volendo ricondurre volendo sintetizzare probabilmente ci lascia due lezioni fondamentali la prima è la transizione come dicevamo prima nel passaggio da social network a social media da un concetto che privilegia il contact a un contesto in cui è privilegiato il content addirittura il contact sbanisce con tik tok perché non c'è una necessità di interazione con qualcun altro è tutto un rapporto uomo a macchina uomo ad algoritmo la seconda cosa di tik tok importante è un concetto di pigrizia no è il social network che fa tutto al posto tuo tu hai veramente soltanto da fare swipe con il dito ancora secondo secondo esempio chat gpt faccio parte di quelli che nel nel recente passato hanno interrogato il sito e hanno fatto delle domande verificato l'affidabilità e anche il modo in cui veniva scritta la risposta la cosa interessante è da notare in un tweet per esempio è quanto tempo è passato per raggiungere il primo milione di utenti passiamo da esempi come netflix tre anni e mezzo addirittura l'iphone 75 giorni sono cinque i giorni che sono serviti per far sì che si arrivasse a chat gpt al raggiungimento di un milione di un milione di utenti un'altra suggestione importante non so se qualcuno di voi ricorda a livello anche politico ma anche ci sono esempi cinematografici che si parlava di io ricordo vivamente qualche leader del centro-sinistra che diceva noi sbagliamo perché siamo ancora nelle fabbriche le fabbriche del terzo millennio sono i call center oppure c'è un film di paolo virzi tutta la vita davanti che è incentrato su quello che sembrava un fenomeno destinato a caratterizzare la nostra società e il mondo del lavoro beh la notizia è che il mondo dei call center sta praticamente svanendo sotto il peso dei bot di quello che l'intelligenza artificiale riesce a fare infine ancora sull'intelligenza artificiale la ridefinizione di alcuni lavori leggevo un articolo di uno scrittore traduttore italiano che recentemente si è testato nell'utilizzo nello svolgimento della sua professione di traduttore con appunto l'ausilio dell'intelligenza artificiale le riflessioni che faceva erano ci metto la metà del tempo quindi bello e perdo però quelli che erano gli skill per me fondamentali di questo mestiere perché non mi viene più chiesto di scrivere una frase o di utilizzare bene una determinata punteggiatura mamma marini chi ne è chiesto di cambiare un chiedere all'intelligenza artificiale di cambiare un po lo stato d'animo della frase il livello emotivo della frase farla un po più incisiva un po più lunga o questo tipo di indicazioni in fin dei conti stiamo dicendo stiamo girando intorno al al concetto secondo cui probabilmente il mondo si dividerà in due categorie di persone quelle che daranno ordini a un'intelligenza artificiale e quella che quelli che da un'intelligenza artificiale riceveranno ordini io non so non so se andrà effettivamente così sono più propenso a pensare che probabilmente nella vita di ognuno di noi ci saranno momenti in cui daremo un ordine a un'intelligenza artificiale e momenti in cui l'intelligenza artificiale ci darà degli ordini ecco perché dico questo perché mi serve per andare anche a parlare di quello che accadrà nei confronti del consumo assicurativo viviamo abbiamo vissuto gli ultimi dieci anni un'epoca in cui diciamo il fai da te la modularità assicurativa quindi la composizione dell'offerta assicurativa basata sulle esigenze specifiche di un singolo cliente veniva garantita e richiesta al cliente con domande che però avevano una complessità tale per cui il cliente probabilmente non aveva la vita facilitata ma aumentavano i suoi punti interrogativi ecco in un'epoca nella quale tutte le innovazioni o almeno molte delle innovazioni che coinvolgono il mondo assicurativo l'embedded insurance oppure comunque il boom del bank assurance che abbiamo visto sono tutte diciamo tendenze che portano le assicurazioni a concentrarsi sul loro aspetto tecnico quindi a limitare un po il livello di a limitare un po anche i confini della catena del valore assicurativa secondo noi il tema industriale invece va esattamente nella direzione opposta va verso un allargamento un ruolo che progressivamente cresce delle assicurazioni non si riduce perché cambia dal fornire una una serie di soluzioni da comporre da mattoncini da mettere insieme in realtà probabilmente la risposta che domani le assicurazioni dovranno prendersi la responsabilità di sapere in anticipo rispetto al cliente che hanno davanti qual è non soltanto il tipo di prodotto il tipo di garanzie ma anche la configurazione delle del del pacchetto assicurativo che il cliente sta comprando traducendo la domanda che prima che fino a poco fa era che coperture vuoi che massimali che scoperti che franchigie traducendo queste domande una semplice domanda questa è la cosa giusta per te la vuoi sì o no per consentire al prodotto assicurativo di diventare un consumo più semplice in un mondo che di semplicità ha assolutamente bisogno ecco siamo arrivati alla fine di questo percorso molte delle cose che abbiamo detto nel corso di questa puntata ci consegnano un mondo che è in bilico tra scenari particolarmente esaltanti e situazioni invece inquietanti la buona notizia con cui voglio lasciarvi però è che molto dipende da noi dipenderà da noi se saremo vittime di quello che abbiamo creato oppure se riusciremo a disegnare un futuro migliore grazie agli strumenti che abbiamo costruito non mi resta altro che ringraziare tutti quanti coloro che hanno contribuito a questa stagione di Gtalks a partire dagli ospiti che sono stati coinvolti al team di Le Fonti e ai colleghi di Guideware lasciando le ultime due parole proprio per Guideware che ha sostenuto questa iniziativa nell'ottica di rispettare il proprio purpose il proprio purpose parte dal riconoscimento della rilevanza e della importanza essenziale del ruolo che le assicurazioni svolgono oggi più che mai e della possibilità di contribuire attraverso l'innovazione a fare in modo tale che questa centralità sia sempre più rilevante in un futuro e aiuti appunto a disegnare un futuro migliore per tutti io adesso vi saluto e vi dico arrivederci a presto